pronti a dare un bel calcione al covid ma forte il calcio giovanile a prato riparte dal torneo della rinascita la prato yacht cup memorial dommaggini una manifestazione nata dall'aggregazione di 19 società pratesi che durante il lockdown si sono riunite per cercare di fare squadra e trovare insieme una novità assoluta per la nostra città soluzioni idonee per la ripartenza una scelta vincente sebbene i problemi siano sempre tanti e convivere con l'emergenza covid non sia una cosa semplice tutt'altro sanificazioni misurazione della temperatura ingressi contingentati esami serologici ormai sono diventate parola d'ordine ma nonostante tutto questo niente ha fermato la voglia di ripartire di giocare del calcio giovanile e allora lo spettacolo è passato sul terreno verde dove finalmente si è tornati a giocare a sudare a soffrire a gioire e soprattutto assegnare tutto apparentemente come prima con qualche polemica annessa che fa parte del gioco ma con una voglia matta di voltare pagina e tirare un bel calcione al covid ma forte davvero grazie a tutti